Citerna, Civitas Sobarie in latino, Ziterna in dialetto alto tiberino, Ziterna in toscano, è un comune umbro della provincia di Perugia, i cui abitanti sono detti Citernesi e il patrono è San Michele Arcangelo. Citerna ha un'anima antica, quella già ammirata dallo scrittore romano Plinio il Giovane, quando lodava di questi luoghi la salubrità dell'aria e la bellezza del paesaggio. Come dargli torto? Citerna sta in cima a un colle da cui domina l'alta valle del Tevere, dell'Umbria che confina con la Toscana e le Marche. Durante i lavori di restauro del palazzo comunale è emersa una struttura sotterranea fatta di passaggi, ambienti, locali e cisterne, in pratica un doppio livello urbanistico, il sopra e il sotto. Anche i camminamenti medievali, che si snodano per buona parte della cinta muraria, denotano questa attitudine a star coperti, come se il borgo dovesse difendere la tenerezza che ha in grembo. Il percorso di Ronda protegge infatti tiepidi spazi rinserrati, dove ci si scalda il fuoco del camino degli innamorati, o si nasconde la ragazza che ha prestato il volto alla Madonna con bambino, nella terracotta attribuita a Donatello. Le origini del nome sono incerte, ma potrebbe derivare da una contaminazione linguistica di cisterna, dal momento che in molti edifici sono presenti cisterne di raccoglimento di acque piovane. Ritrovamenti di fittili e monete testimoniano la presenza romana nel Castrum Citerne, in un territorio già abitato dagli Etruschi. Nel Medioevo, sopravvissuta la fase di decadenza che coinvolse l'intero territorio alto tiberino durante le invasioni barbariche, risorse in epoca longobarda per motivi strategici e successivamente fu contesa da Arezzo, che era Ghibellina, e da Città di Castello, che invece era Guelfa. Dopo essere stata feudo dei Marchesi del Colle, Citerna nel 1199 fece atto di sottomissione a Città di Castello, rinnovato poi nel 1273. Dal 1310 al 1340 furono suoi i signori tarlati di Pietramala, finché richiese la protezione dei perugini. Poi fu di nuovo governata dai Pietramala e poi da Malatesta, finché nel 1463 passò allo stato pontificio. Agli inizi del 1500 venne data invicariato alla famiglia Vitelli di Città di Castello e sotto la loro signoria iniziò per il borgo il periodo di maggiore splendore, in quanto i Vitelli erano dei condottieri, ma anche dei mecenati amici dei medici. Fu così che al loro servizio operarono artisti quali Raffaellino del Colle, Donatello, Pomarancio, Signorelli, le cui opere arricchiscono ancora oggi il borgo. Pertanto i Vitelli costruirono nuovi edifici e mantennero la signoria sino alla fine del 1600, secolo funestato dalle pestilenze del 1619 e del 1630. Nel 1849 Citerna ospitò Garibaldi durante il percorso di ritiro verso Ravenna. Infine nel 1860, prima tra tutte le città umbre, entrò a far parte del Regno d'Italia.